Buongiorno, benvenuti alla serie stampa di oggi, 26 luglio. Quali sono i temi fondamentali della giornata? Insomma, questa è la giornata cosiddetta dei coccodrilli, quelli preparati nelle ore scorse dai giornali sulla morte che era ormai annunciata di Sergio Marchionne, il numero uno della Fiat, che ieri muore appunto esattamente nel giorno in cui la Fiat deve presentare i conti del secondo trimestre del 2018, il che vuol dire del primo semestre di quest'anno, conti che non sono andati bene. I giornali quindi si dividono tra la parte di conti e la parte, diciamo, di ricordo del grande manager. Da segnalare una cosa che mi ha raccontato un amico parlamentare che ho sentito questa mattina è che ieri in Parlamento è stato chiesto di fare un breve applauso per ricordare la morte di Marchionne, che comunque ha avuto un peso ovviamente nella storia industriale di questo paese negli ultimi 14 anni, ad applaudire soltanto Forza Italia e il PD, mentre tutto il resto del Parlamento non ha applaudito. A N non ha applaudito, scusate i miei fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Mi sembra, l'ho detto nel mio sito, lo trovate su nicolaporro.it, questo è un atteggiamento meno ipocrita di quello che si legge ovunque, perché evidentemente, voglio dire, è evidente che la politica, le intuizioni, le capacità di Marchionne non sono certo da mettere in riferimento a una certa parte politica, cioè quella del decreto di dignità per intendersi. Cosa succede? Le cose interessanti di oggi sono forse un paio di interviste, poi i ricordi sono più o meno letti in questi giorni, perché come spesso avviene per i grandi potenti che stanno male, si diluiscono le informazioni su di loro. Nelle ultime 4-5 giorni abbiamo letto di tutto, oggi il pezzo di Gramellino, di Chi era, di Cazzullo, che raccontava Romiti, Valletta, Ghidella, insomma l'abbiamo letto 125 volte, però oggi ce lo ripropone il Corriere della Sera. Interessante l'intervista a Riccardo Altavilla, un vero uomo di Marchionne in Fiat, che se ne va una settimana fa, ovviamente, probabilmente era, come posso dire, negli accordi del Corriere della Sera, io ti intervisto e ti rilascio l'intervista su Marchionne, ma tu non mi chiedi il motivo per il quale io me ne sono andato. È abbastanza una cosa surreale, ma noi giornalisti questa cosa la facciamo, pur di avere un'intervista possiamo rinunciare a chiedere all'intervistato la cosa più importante da chiedergli. Perché te ne sei andato via proprio nel giorno in cui muore Marchionne? Questo non gli è stato chiesto, fa parte del nostro mestiere. Ma che cosa ci racconta Altavilla oggi sul Corriere della Sera? Beh, insomma, il Marchionne più caldo, che si è entusiasmato abbracciandolo quando comprarono Chrysler nel 2009, la scena del 2005 quando chiusero l'accordo con General Motors, direi che essendo stato l'uomo più vicino a Marchionne, Altavilla, oggi non più in Fiat, era l'uomo da sentire e il Corriere lo fa. Altra intervista interessante di un altro manager, Mario Marco Tronchetti Provera, sulla stampa, piuttosto interessante, l'uomo che ha cambiato il modo di vedere dell'industria. Insomma, queste forse sono le due interviste che mi divertono di più. Bello il pezzo di Capone sul foglio, in cui dice una frase, riprende una frase di Marchionne che vi fa capire perché non tutto il Parlamento lo può applaudire, anche il PD forse dovrebbe stare attento. Il 68 ha avuto un effetto devastante, dice Marchionne, pur condividendola in alcune battaglie civili, il 68 ha avuto un effetto devastante nei confronti dell'atteggiamento verso il dovere. Parole chiarissime e che sono molto condivisibili che Capone riprende dai vecchi discorsi di Marchionne. Un lavoro simile, molto interessante, lo fa il giornale con solo scritto grazie e poi un vocabolario dall'A alla Z di tutte le frasi di Marchionne che mi sembrano il modo migliore per ricordarlo. I conti sono un altro elemento negativo perché i conti, poi dopo li analizzo oggi sul giornale, chi ha voglia di un po' di finanza se la legge sul giornale, il motivo per il quale ieri il titolo crolla del 15% è che il margine operativo netto, che si chiama EBIT, cioè quanto è l'utile, diciamo, lordo prima delle tasse, quel margine operativo netto, è stato del 20% inferiore a quanto Marchionne aveva detto che sarebbe stato. Il punto è che fino a poco tempo fa Marchionne quando faceva un profit warning la indorava, raccontava strategie favolose della sua azienda, in questo caso l'algido inglese che lo ha sostituito non è riuscito a farlo e quindi il titolo è crollato in borsa. Andiamo su altre tematiche perché su Marchionne ne abbiamo parlato molto, chi volesse se lo può reggere con attenzione anche sul mio sito, ci sono tanti pezzi che lo ricordano. Beh, insomma, oggi trovo straordinaria una lettura su Macron che voi sapete è in una specie di cul de sac per la questione del suo uomo della sicurezza, un marocchino di 29 anni, ex figlio di marocchini di 99 anni, nerboruto, che utilizzava il casco della polizia per menare i manifestanti, non autorizzato. E beh, oggi mi sembra che sia libero, uno di quei giornali che si permette di dire e fare quello che gli pare, che dice in realtà Macron ieri in una battuta dice guardate che benassaccio è quest'uomo, non è il mio amante e libero gioca su questo dicendo finalmente Macron ha ammesso la sua gaititudine, cioè un escusazio non petita. Torniamo a casa nostra per due o tre cose che sono piuttosto interessanti. Beh, la prima è la copertina indecorosa, nel senso che non ha decoro, quella copertina di famiglia cristiana. È una cosa a cui ci abituano spesso i preti, sia l'avvenire, sia famiglia cristiana, quando hanno un nemico lo trattano come soltanto un sacerdote può trattare male, senza carità, senza grazia, quando è incattivito una persona che gli è vicino. Perché l'idea di mettere la foto di Salvini in prima pagina con scritto vade retro, come fosse Satana, questo è il riferimento, e i cattolici credono in Satana e si immagina che chi guida la famiglia cristiana creda in Satana, nel diavolo. Beh, insomma, che un sacerdote consideri vero, non linguisticamente come possiamo fare noi laici, ma che un sacerdote consideri Salvini Satana, dà la misura dell'obiettività di quel sacerdote, della capacità di capire quello che sta avvenendo nel mondo e nella inconsistenza giornalistica di quello che dice. Qui non stiamo dicendo che Salvini sbaglia, stiamo dicendo che Salvini è Satana, è il diavolo, e questa cosa non la dico io, ripeto, la dice un sacerdote che a Satana crede e la dice a persone che dovrebbero credere anche nel diavolo. Ecco, io l'unica cosa che credo è che forse un cattolico possa non riconoscersi in quella copertina, questa sì, davvero disgustosa, fatta da un grande braccio a Giorgio che vedo che si è collegato ora in diretta. Insomma, quella copertina di Famiglia Cristiana mi sembra che racconti più che Salvini il livello a cui è arrivato il giornalismo cattolico. Due temi fondamentali sono quelli delle ferrovie, oggi su tutti quanti i giornali, perché Toninelli, ministro dei trasporti, decide di azzerare i vertici delle ferrovie dello Stato. Guardate, io non ho nessuna simpatia nei confronti dell'attuale amministratore delegato Mazzoncini, nominato da Renzi senza un grandissimo curriculum. Poi uno parla di questi nuovi che portano e nominano persone senza grande curriculum. Beh, Mazzoncini aveva un curriculum molto locale per poter fare l'erede di Moretti alle ferrovie dello Stato. Beh, insomma, nominano questo Mazzoncini e attaccano le forrovie ANAS perché sono grandi investitori pubblici, hanno grandi appalti, ma in una tale come posso spiegarvi in modo molto semplice di togliere dal perimetro pubblico contabile europeo l'ANAS e creare un gigante degli investimenti con qualche economia di scala sarà. Ma nel frattempo Mazzoncini non si occupa banalmente delle ferrovie dello Stato, un po' distratto da queste operazioni finanziarie. Il mio giudizio banale, e l'ho scritto tante volte sulle ferrovie dello Stato, è che chi fa il ferroviere dello Stato come insegna Moretti di quello si deve occupare. Negli ultimi mesi questo non è avvenuto. E allora vi chiedo e mi chiedo come giudicare l'idea che Toninelli abbia zerato tutti posto che legalmente poteva farlo perché sono stati riconfermati i vertici delle ferrovie dello Stato entro sei mesi dalla nascita di un nuovo governo che quindi ha il diritto, secondo la legge di fare spoil system, come loro possibile facoltà. Possono nominare i capi dei treni. Ma la cosa che mi fa impazzire è che loro non hanno mai il coraggio di dire che fanno le cose perché le fanno. Perché dà un bacio a una ragazza? Perché mi piace? No! Perché penso che abbia un buon rapporto etico con il tramonto. Questa è la cazzata che ci racconta sempre il Movimento 5 Stelle per giustificare il fatto che uno non vale più uno e che loro oggi comandino. E allora cosa ci dicono? Vogliamo fare fuori il capo delle ferrovie dello Stato? Non perché vogliamo mettere un uomo nostro e della Lega come sarà e nei prossimi giorni ce ne accorgeremo. No! Perché vogliamo occuparci dei pendolari. Allora per occuparsi dei pendolari non bisogna cambiare il capo delle ferrovie dello Stato. Basta dirlo nel contratto di programma alle ferrovie dello Stato. Basta che le vostre regioni cari amici leghisti Lombardia Liguria Veneto si occupino di contratti fatti con lo Stato centrale. Basta che facciate le trattative con le ferrovie dello Stato. No! Capisco che si debba cambiare ma non ci raccontate cazzate. Volete cambiare il capo delle ferrovie dello Stato perché volete giustamente lottizzare questo paese alla RAI alla ferrovie dello Stato alla Cassa Depositi e Prestiti e in tutti i gangli vitali di un apparato statale che se non viene governato dai vostri uomini non viene governato. Perfetto! Ma sapete poi l'altra cosa fantastica sulle ferrovie dello Stato oggi la mette il Corriere della Sera in maniera evidente Marco Imariso in cui dice questi cambiano idea ogni giorno sulla TAV perché senti la mattina Toninelli che dice sulla RAI che dovrebbe essere il luogo istituzionale dice la TAV si deve fare e poi lo vedi su Facebook che parla a un altro pubblico in cui dice che in realtà nessuno si azzardi a fare un atto che porti avanti la TAV in Italia. Allora mi chiedo e vi chiedo quello che succede è molto semplice questi sono fenomenali perché nel nuovo modo di comunicare 2.0 cosa succede? Una cosa è quella che dicono in RAI dove vengono visti dalle signore per bene istituzionali RAI 1 una cosa è quella che dicono la 7 dove vengono visti dal loro pubblico Movimento 5 Stelle leghista una cosa è quella che dicono a Matrix dove c'è un po' di conservatori di destra una cosa è quella che dicono a Facebook dove c'è la loro eco-chamber e dicono esattamente quello che Facebook si vuol sentire dire noi che cosa capiamo? Nulla della loro politica opportunismo mediatico lo chiamerei questo poi che cos'altro c'è di giornata? Beh è l'ultima cosa di giornata che secondo me è la più interessante è il decreto dignità questa minchiata come ho definito cagata pazzesca del decreto dignità che sarà un disastro per le causali che renderanno più difficili le assunzioni perché la gente non prenderà più a termine perché non vorrà avere il rischio burocratico di beccarsi cause di lavoro qua in faccia solo perché hanno sbagliato a scrivere una causale aumenterà il prezzo dei contratti a tempo determinato 0,50 in più rispetto a un aumento del prezzo che già aveva introdotto il vecchio Jobs Act del 1,4% già Renzi l'aveva aumentato quindi si aumentano un'altra volta perfettamente in linea l'aumento del costo del licenziamento e poi hanno inventato questa farsa perché oggi me la sono data a leggere bene della reintroduzione dei voucher cazzata quando voi siete un imprenditore vedete la complicazione che ci sarà per rimettere i voucher oggi come vengono rettificati capirete che ci saranno difficoltà un po' inferiori rispetto a prima ma comunque superiori all'interesse del utilizzarli quindi i voucher non li riutilizzeremo un'altra volta ma questa è la bandiera che la Lega dice noi abbiamo cambiato il decreto di dignità in senso di maggiore liberalizzazione perché abbiamo messo i voucher cavolata bluff totale oggi se vi leggete il Corriere Veneto prima pagina del Corriere Veneto capite qual è l'atteggiamento ormai schizofrenico che questi della Lega hanno avuto sulla questione del decreto di dignità io pensavo fossero un baluardo nei confronti della libera impresa delle ragioni del mercato degli imprenditori dei lavoratori che non vogliono essere assistiti e non vogliono il reddito di cittadinanza ma vogliono lavorare tutte illusioni mi ero fatto perché quando vedo il segretario della Lega Veneta che quando i Veneti gli dicono ma che è stato a fare sul decreto di dignità guardate che state facendo un casino quando vedo che il segretario della Lega Veneta sul Corriere Veneto oggi dice se noi pensiamo solo ai voti voi pensate solo ai soldi come se fosse un cazzo di comunista degli anni 70 cioè il segretario della Lega Veneta accusa gli imprenditori di pensare soltanto ai loro soldi io chiedo al segretario della Veneta e a che cosa dovrebbero pensare cosa dovrebbe pensare un imprenditore se non a fare utili profitti e soldi per rendere la sua azienda sempre più ricca più grossa e assumere più gente a cosa dovrebbe pensare a pagarti le tangenti a te cosa dovrebbe pensare un imprenditore veneto se non rendere la sua fabbrica sempre più grossa e mi chiedo perché gli imprenditori lombardi stanno zitti perché l'imprenditore lombardo è un signore il capo degli imprenditori lombardi è un signore con 2 milioni di fatturato un'azienda che è neanche un negozio in centro a Milano fattura così poco e che spera di beccarsi un incarico di governo ipotizzo non sono sicuro ipotizzo mentre l'imprenditore veneto si fa un mazzo così dalla mattina alla sera come quello emiliano quello campano quello pugliese quello siciliano un vero imprenditore risponde a questa minchiata del decreto dignità arrabbiandosi invece questi zitti muti a parte devo dire alcuni della confindustria veneta zoppas mi dicono presidente amico mio che conosco il più moderato ma perché lo conosco ha un'attitudine moderato quando uno ha una grande impresa c'ha sempre gli attitudini moderati bisogna essere furibondi se uno avesse un'azienda dovrebbe essere furibondo il lavoro le fanno le aziende il Corriere Veneto oggi vi dà uno spaccato straordinario leggetelo il Corriere della Sera del Veneto in cui si vedono gli imprenditori veneti che finalmente parlano e dicono quello che pensano rispetto a un decreto dignità che è medioevale se esistesse un'opposizione a questo governo e non ci fossero soltanto quattro morti di sonno di Forza Italia morti di sonno gente che sta in Parlamento e si fa il segno della croce come quello di famiglia cristiana perché per i prossimi cinque anni si è spartito la vicepresidenza capogruppo si è preso quattro soldi di questi quattro morti di sonno di Forza Italia se questi morti di sonno di Forza Italia avessero un po' di cazzo di cervello oggi andrebbero sui territori e direbbero come fanno gli imprenditori Corriere Veneto cosa succede? invece quelli sapete che cosa pensano? sperano che questo governo duri per i prossimi cinque anni per prendersi lo stipendio per i prossimi cinque anni punto la zuppa di porro finisce qua perché col Corriere Veneto di oggi secondo me è il massimo che oggi possiamo leggere oltre a poche cose sugli altri giornali del mood vero di un paese che si sente tradito su un decreto assurdo ciao ciao